Gentili telespettatori di Telegenova, abbiamo l'onore di avere per la prima volta nella nostra emittente genovese il professor Massimo Bonucci. Il professor Massimo Bonucci è anatomopatologo, oncologo e direttore di patologia clinica e anatomia patologica della Casa di Cura San Feliciano di Roma. Il professor Bonucci è docente sia di corsi che master universitari all'Università di Milano e all'Università di Chieti. Collabora come board ed advisor of Foundation for Collaborative Medicine and Research nel Connecticut, USA. È il presidente dell'associazione non-profit Artoi che si occupa di ricerche di terapie oncologiche integrate. Buonasera a tutti, questa sera abbiamo con noi un personaggio veramente interessante, volevamo presentarvelo e volevamo che ci dicesse tutto quello che di bene e di buono per la nostra salute. È con noi il professor Massimo Bonucci e vicino a me, la fine che conosciamo tutti, Alfredo Pelli. Ciao Alfredo. Buonasera, ciao Franca. Noi dobbiamo ringraziare Alfredo per la sua presenza quest'oggi a Telegenova. Grazie professore. Grazie mille, grazie a voi dell'invito tra l'altro. Ecco, l'argomento è molto molto interessante, perciò io preferirei che qualche domanda cominciassi a farle Alfredo. Ti ringrazio. Perché è un argomento molto, un pochino anche difficile. Alfredo. Innanzitutto ringrazio il caro Massimo che ho conosciuto in questi anni qua in ambiente assolutamente lavorativo professionale che è quello della terapia oncologica integrata e apprezzo l'uomo innanzitutto e il medico. Il professor Bonucci è il presidente dell'Artoi che è un'associazione no profit che si dedica alla ricerca di terapie oncologiche integrate e proprio il prossimo dicembre patrocinerà un congresso internazionale, il terzo congresso internazionale di terapia oncologica integrata a Roma alla Camera dei Deputati. Professore, cosa vuol dire terapia oncologica integrata? Buonasera. Intanto buonasera a tutti e ringrazio la signora Franca e anche l'amico Alfredo di avermi invitato. Si parla di oncologia integrata. Quando parliamo di oncologia parliamo soprattutto di una terapia che è necessaria per i pazienti ma sappiamo anche che ha una certa tossicità. La terapia oncologica integrata cerca di intanto ridurre quelli che sono gli effetti collaterali della chemioterapia stessa ma l'altra funzione che abbiamo visto è di essere di aiuto e sinergico alla terapia integrata stessa. Ecco perciò una non esclude l'altra? No, non è che una non esclude l'altra ma una deve essere messa insieme all'altra perché quando si parla di oncologia parlare in America, nel senso in Europa non si parla più di terapia alternativa in oncologia. Questo perché noi dobbiamo renderci conto che essendo all'interno del gruppo europeo a livello mondiale, la globalizzazione, quello che per noi è una terapia alternativa è complementare in Germania ma è ufficiale in Cina o in Giappone quindi oramai il concetto di terapia integrata non esiste più a livello internazionale ma si parla della cosiddetta complementary ed alternative medicine. Ma c'è stata un'ulteriore evoluzione di questo perché alla prima conferenza internazionale di cui eravamo presenti io e il professor Firenzola di Firenze sul medicina integrata in oncologia ad Amsterdam è venuto fuori proprio il discorso di integrazione ovvero l'uso di metodologie o sostanze naturali in associazione alle terapie che noi conosciamo ovvero chemioterapia e radioterapia. Quindi non parliamo di una cosa che esclude l'altra ma l'uso della combinazione di queste terapie porta la prima cosa ad una miglior qualità della vita che è oramai una delle condizioni importanti ma oramai sperimentalmente è stato visto che ci sono dell'uso di queste sostanze con la chemioterapia per avere più risultati rispetto alla chemioterapia sola. Ecco vorrei fare un discorso magari che interessa molto i telespettatori. Togli un po' di tossicità della chemio? Bravissima. Io non più tardi qualche giorno fa è venuta una paziente che aveva avuto la chemioterapia qualche tempo prima poi purtroppo è ricaduta facendo un'associazione. Questa paziente mi ha detto Dottor Bonucci io le devo dire grazie anche perché sono al terzo ciclo di chemioterapia e oggi sono venuta a Roma sono di Firenze a fare la visita con lei senza avere nessun tipo di problema ovvero non è che noi facciamo i miracoli. Mi raccomando e cerco di dare questa informazione ma utilizziamo dei farmaci naturali che hanno sappiamo che cosa fanno, sappiamo come agiscono, sappiamo che agiscono insieme alla chemioterapia riducendo gli effetti collaterali della chemioterapia stessa. Ed è questa diciamo la cosa importante per cui l'associazione che abbiamo creato sta avendo effettivamente un grosso risultato. Quello che le posso dire è che l'associazione Artoi che abbiamo organizzato e di cui sono il presidente è proprio un'associazione di ricerca per le terapie oncologiche integrate, proprio cerca di integrare le sostanze naturali o anche alcune metodologie, ne parlo per esempio dell'ipertermia, che tutto visto che utilizzando insieme alla chemioterapia dà un maggiore effetto e i pazienti stanno meglio. Ecco. Questa è una delle cose che secondo noi come messaggio e chiedo a voi che siete tecnici e siete veramente esperti di media cercare di far capire che non diamo delle cose in alternativa ma sono delle cose che sono in associazione e l'associazione oramai è stato visto scientificamente, sperimentalmente, ci sono oramai dell'evidenza clinica che utilizzare, le faccio un esempio, l'epigallo catechina gallato, in termini poveri il tè verde utilizzato insieme per esempio al taxolo che è un farmaco antiblastico riduce gli effetti collaterali del taxolo prendendo magari non certo un bicchierino o una tazzina di tè verde ma prendendolo come farmaco e non come integratore per avere un risultato di questo genere. Professore, io poi lascio la parola ad Alfredo Pelli però sono curiosissima io e mi piace ascoltarla, l'ascolterebbe chissà quanto tempo, però bisogna fare informazioni su questo, cioè i media come si chiamano adesso devono fare informazioni su questo. La cosa che dovrebbero farla non solo fare informazione ma farla giusta come informazione. Certo. C'è una, e questo è anche uno dei nostri scopi, il nostro scopo dell'associazione è anche una divulgazione, una divulgazione di carattere scientifico perché non possiamo dire delle cose e poi non farle oppure dire le cose che poi non hanno dietro una valenza scientifica. Allora, fare informazione è importante, noi abbiamo già organizzato non a caso due congressi internazionali sempre a Roma alla Camera dei Deputati, quest'anno faremo il terzo congresso internazionale ovvero ci saranno delle personalità mondiali dal Memorial Sloan Catering Cancer Center, c'è uno dei più grossi centri di oncologia nel mondo, ci saranno i giapponesi con il presidente dell'oncologia integrata giapponesi, ci sarà il presidente dell'oncologia integrata in Argentina, ci sarà il direttore dell'oncologia integrata in Israele. Purtroppo in Italia abbiamo una difficoltà di interazione, però bisogna partire dal basso per poi arrivare leggermente più in alto. Secondo me è assolutamente un compito che avete per i malati? Per i malati, questa è una delle nostre prerogative, una delle cose che noi diciamo è il paziente il nostro obiettivo ed è il benessere del paziente il nostro obiettivo, proprio nel nostro, non dico nel nostro statuto ma nella nostra locandina di presentazione, diciamo che è il paziente con la malattia che dobbiamo curare, non la malattia nel paziente. Quindi dobbiamo curare e salvaguardare il paziente in quanto tale che ha una patologia, ma è questa la cosa fondamentale. Ed è un approccio leggermente diverso da quello che posso dire ho il raffreddore e quindi curo il raffreddore. In questo caso ho una malattia ben più complessa e devo basarmi su quelle che sono le patologie complesse e non una patologia semplice, quindi vedere il paziente in quanto unico personaggio a cui noi dobbiamo dare il nostro massimo. Anche perché poi le conseguenze delle chemie sono disastrose. Però purtroppo non possiamo prescindere da questo. Io ripeto una cosa che dico sempre a tutti, io sono anche, oltre ad essere un anatomopatologo, cioè quindi quello che fa le diagnosi, sono anche un oncologo, non posso eliminare dal mio ventaglio di possibilità terapeutiche una di quelle che è fra l'altro la più importante perché mi deve ridurre il numero delle cellule. Perché questo è il concetto fondamentale. Io devo ridurre le cellule. Purtroppo riducendo le cellule posso danneggiare. Benissimo, io do le sostanze che mi riducono il danno alle cellule normali. E' questo, è questo. Certo, è importantissimo. Alfredo? Massimo ha parlato di chemioterapia. Innanzitutto mi preme dire ai genovesi che Massimo, il professor Massimo Bonucci, è uno dei tre italiani che viene chiamato a rappresentare l'Italia in tutti i congressi del mondo dove si parla di oncologia integrata. E non è una cosa da poco oggigiorno. Tornando alla chemioterapia e all'integrazione, Massimo ha partecipato alla redazione di manuali di terapia legati al mondo fitoterapico, quindi un'oncofitoterapia. Come possiamo spiegare cosa intendiamo per oncofitoterapia ad esempio con l'associazione col chemioterapico? Perché usiamo un'oncofitoterapia a pro di una cura antioncologica? La utilizziamo, come dicevo, prima perché oramai sappiamo che alcune sostanze che noi chiamiamo integratori non sono integratori, sono farmaci. Ah sì? Eh sì. Perché, le faccio solamente un esempio, noi prendiamo il tè verde che fa benissimo, ma io l'ho chiamato prima epigallo catechina gallato. Questa sostanza entra nella cellula e va a bloccare certi meccanismi di proliferazione cellulare. Quindi se io lo do come integratore fa benissimo ed è bene per l'antiaging, quindi va bene. Ma se io lo voglio utilizzare come farmaco, lo posso utilizzare e con un dosaggio ben preciso so che arriva dentro la cellula e ha un'azione ben precisa. Quello che serve alla chemioterapia è l'uso di alcune sostanze che non vanno contro, infatti non ci sono cross-reattività, come si dice, cioè non vanno contro nessun po' ma si mettono su un piano diverso rispetto alla chemioterapia andando a colpire certe cellule e dando quindi un risultato A come integratore perché fa bene, B ma aiuta la chemioterapia ad agire meglio ed avere per il mente più successo. Ecco perché parliamo di oncofitoterapia. Utilizziamo delle sostanze fitoterapiche che possono essere in questo caso il tè verde ma può essere un'altra molto importante è la bosueglia che è chiamata bosueglia dal punto di vista tecnico ma noi la consideriamo e la conosciamo come incenso. Il profumo di incenso è a base di acido bosuellico. Possiamo parlare delle grosse sostanze di curcuma, il curry. Lei che conosce molto bene perché oltretutto è anche una sostanza buonissima. Ecco facendo un inciso di quello che è la curcuma è una delle sostanze più studiate a livello mondiale ma anche perché c'è un fatto. L'isola di Okinawa è l'isola in cui ci sono il più alto numero di centenari e le persone che hanno la più bassa incidenza di tumori. Queste persone, per dirle, mettono anche nel tè la curcuma. Davvero? È una delle cose più strane. Fra l'altro uno degli ultimi studi che riportiamo il professor Scafagnini dell'Università di Catania ha utilizzato la curcuma e ha visto che riduce la produzione di molecole tossiche a livello cerebrale e ha fatto uno studio, chiaramente ancora in vitro e l'ha portato negli animali in riduzione dell'Alzheimer in questi topi. Quindi, questo per dire, noi in natura abbiamo molte sostanze. Le dico solamente una cosa. Una delle sostanze antiblastiche più importanti, che viene fuori dai taxani, non è altro che un estratto di una corteccia di un albero che è una dei più potenti ed interessante sostanze antiblastiche che viene utilizzata per molti tipi di tumori. Quindi, la natura ci dà una mano. Noi cerchiamo, con l'oncofisioterapia, di prendere quello che c'è di buono nella terapia e di portarlo. Anche perché vorrei chiedere a Massimo una cosa, di cui chiaramente io sono a conoscenza, essendo un addetto ai lavori, però chi fa, purtroppo si trova a fare chemioterapia, non ha idea di quanto un farmaco possa essere o no efficace. Ne sappiamo che la chemioterapia ufficiale, che la maggior parte poi è di derivazione naturale, ha un'azione mirata sulle cellule a seconda del tipo di cancro, ma in percentuale. Quindi vorrei che ci dicessi questo. E quanto possa aumentare questa percentuale di miglioramento, quindi di chemiotossicità delle cellule malatte, con associazione con estratti naturali? Allora, in percentuale è sicuramente molto difficile, ma soprattutto perché dobbiamo partire dal concetto, come dicevo prima, che ogni paziente è a sé. E da questo è la grossa differenza, tra l'altro, che ci, non che ci differenzia, ma che ci mette un po' in discussione con gli oncologi. Non possiamo parlare di protocollo, intanto. Io faccio sempre un esempio che può sembrare strano, ma quando io ho una cefalea, un mal di testa, ho bisogno di prendere 30 gocce di nuova algina. A qualsiasi altro tipo di persona, se prende 30 gocce di nuova algina, c'è una crisi di pressione. Quindi, quello che voglio dire è che anche con gli antiblastici possiamo avere lo stesso discorso. Allora, dovendo però fare una quota di antiblastici, noi sappiamo che l'influenza della fitoterapia in oncologia riduce degli effetti collaterali che possono arrivare anche, come dicevo prima, dal 40 al 60, all'80%. Alcune persone fanno chemioterapia, fanno la fitoterapia, non hanno problemi ad avere il giusto dosaggio, non hanno problemi con gli effetti collaterali. Molte persone, lo dicevo anche, lo raccontavo prima, una paziente che faceva chemioterapia, aveva disturbi, ha iniziato a fare la terapia integrata ai minimi disturbi che sono in qualche modo sopportabili e sapendo che cosa devono fare, perché non scordiamoci che tutti i pazienti devono sapere che dovendo curarsi devono avere, devono fare delle terapie che comunque è un po' tossica, ma che la devono fare. È importante dire questo. Noi non dobbiamo evitare di fare chemioterapia, noi la dobbiamo fare nel modo giusto. Ed ecco perché noi con la situazione di ricerca possiamo anche fare delle modalità diverse di chemioterapia, la cosiddetta frazionata o la chemioterapia metronomica. Che cosa significa queste due cose? Così lo spieghiamo ai pazienti. Io posso dare un dosaggio pieno oppure posso dare un dosaggio scalare in modo di avere lo stesso risultato, questa è la frazionata. Oppure posso dare una quota molto piccola di chemioterapia tutti i giorni o tutte le settimane per avere tutto lo stesso risultato. Se a questo ci associo oltretutto la fisioterapia, non faccio altro che dare un miglior qualità della vita ai miei pazienti. Ecco, io mi faccio delle domande. Per i poveri malati che non lo sanno questo, è un'ingiustizia. Lei comincia sempre di più a mettere il dito nella piaga e purtroppo ci sono i sordi che non vogliono sentire. Una delle cose che ci dicono di più è che non ci sono evidenze scientifiche. Questo in qualche modo è facilmente evidenziabile andando su qualsiasi tipo di motore di ricerca scientifico vedendo quali sono i risultati. Oramai in Italia c'è questa difficoltà ma piano piano riusciremo. Le dico che quest'anno in America per esempio dove è nata oramai da otto anni la società di oncologia integrata fanno già l'ottavo congresso internazionale dove noi come Artoi presentiamo la nostra casistica di oncologia integrata e quindi per dire a livello europeo e a livello mondiale l'integrazione è una realtà. In Italia ci stiamo lavorando. Quindi piano piano ma questo già ci accorgiamo con molti pazienti vanno dal medico vengono da me dicendo io già prendo questo, io già prendo quest'altro. Noi cerchiamo di dare degli indirizzi ben precisi cioè quando qualcuno viene io prendo l'aloe gli dico non ti preoccupare non ti fa male ma sapendo che l'aloe ha una specificata specificazione se vada a qualche l'aloe principalmente ha un'azione immunostimolante due essendo ricca di sostanze naturali ha anche un'azione di emunture cioè fa urinare parecchio e quindi detossifica diminuisce la tossicità dell'organismo avendoci dentro anche la mi sfugge adesso la pappa reale scusatemi ha delle proteine quindi è un complesso di fitoterapia perché poi in effetti è proteine e male non fa ora se parliamo con gli oncologi forse non sanno tutto questo e quindi dicono non la prendere è una pianta è una pianta oltre a una pianta ecco ci sono anche altre indicazioni rispetto alla pianta io dico questo professore però perché non è giusto perché io sono sempre quella della giustizia che voi questi convegni li facciate solo a Roma c'hanno già la piazza di Spagna c'hanno il Colosseo dovreste farlo in tutte le città la nostra piccola città questa lei ha ripeto lei sempre di più mi piace anche come signora perché riesce a capire quale sono quale sono la nostra esigenza e qual è l'esigenza che noi dobbiamo cercare di dare le dico noi siamo piccoli nel senso che io magari sembro un po' vecchio ma come associazione è nata un anno e mezzo fa e già un anno e mezzo fa siamo stati in Europa noi stiamo lavorando per questo abbiamo trovato alcune persone in cui abbiamo fatto l'associazione che sono disposte a a metterci la propria faccia una di queste sono alcune aziende con cui collaboriamo e che a cui noi diamo la nostra disponibilità per divulgare questa cosa veramente importante una delle cose che diciamo sempre fra l'altro è che oltre alla fitoterapia noi dobbiamo anche dare informazioni su quello che è la nutrizione che è l'altro campo per cui oltre alla chemoterapia oltre alla fitoterapia noi dobbiamo dare delle informazioni su quelle che sono le sostanze importanti per mantenerci non solamente belli ma giovani ma anche in buona salute e come anche mangiare in caso di terapia oncologica a proposito di questo posso annunciare che quasi sicuramente la primavera 2012 faremo un bel congresso di nutrizione biointegrata qua a Genova davvero ecco ma io volevo adesso fare siamo in chiusura mi ha fatto segno il regista e volevo intanto quel libro è mio questo qui è perché fa vedere che noi non stiamo fermi ci stiamo muovendo no grazie l'ha scritto il prof questo è un manuale di terapia grazie di terapia oncologica io adesso a nome di tutti i telespettatori di telegenoma e sono tanti sono tanti sono affezionati all'emittente prof io le chiedo di venire a fare una diretta una sera Roma non è distantissima no ripeto dobbiamo organizzarci e sono ben contento di poter venire qua in modo da poter una diretta in modo che loro possano senza nessun problema dedichiamoci dedichiamoci una giornata e io non ho nessun problema tutti i miei pazienti hanno il mio telefonino quindi ben volentieri di poter dare anche un aiuto alle persone che hanno necessità anche solamente di conoscere sì allora speriamo che torni il professore a parlare con voi faremo una tradizione diretta magari ancora più lunga perché quando io mi accorgo che c'è qualcosa che può aiutare è il mio questa qui è la mia battaglia sempre è stata la mia battaglia e mi sembrerebbe di nascondere qualcosa se non potessimo bravissima Franca vero? io spero che lei torni prof veramente veramente io cercherò lei mi dia le date e non perché non abbia e non perché non abbia ma così almeno riuscirò ecco basta che lo organizziamo sono ben contento e ben felice di avere di essere ospite della vostra trasmissione in diretta faremo in diretta questa volta grazie mille grazie mille sono contenta di averla conosciuta anche a nome di tutte le persone che soffrono di questo orribile male che tutti dicono che sta svanendo secondo me proprio per niente anzi è di più devo stare zitta perché purtroppo non è così ho ragione io purtroppo non è così forse perché riusciamo a prenderli prima ma forse non è così grazie mille grazie a lei complimenti grazie 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 a tutti